Bella a tutti i Fortniteers, benvenuti e bentrovati su LeonTube, eccoci oggi 23 febbraio 2024 per andare a vedere il negozio oggetti di Fortnite Battle Lady Gaga, arrivato ieri con l'aggiornamento, con la Gaga armatura, il costume, il basso cromatica, il microfono cromatica, l'emote controllo della pioggia e la traccia gem Stupid Love. Poi scendiamo e arriva Airphoria, pacchetto Airphoria 1800 v-back, eccolo qua ragazzi, costume reattivo, dorso decorativo, reattivo costume max al maximo e dorso decorativo pur soul boombox, eccoli qua, 1800 v-back per questo pacchetto che però non ci fanno vedere, ce lo fanno vedere soltanto in questo modo, ce l'ho fatto vedere, ecco il dorso decorativo, ecco l'altra skin, eccola col suo dorso decorativo, utilizzabili anche in Fortnite. Esamina oggetti, ah, eccoli qua, perfetto, molto bella questa skin, col suo dorso decorativo, max tacks, con le scarpe, due stili, due stili anche per, tre stili per questa skin, vediamo cosa cambia, non è, non reattiva, reattiva, modalità colore, e il suo dorso decorativo, eccolo qua, un bello soul boombox, un bello stereo, andiamo, davvero bello, questo bundle, stiamo sotto, ha ripresentato il bundle CCFN capitolo 5, stagione 1, con l'emote, il piccone, la copertura, lo zainetto e la traccia gem, la traccia, e scendiamo, ecco, anche Kira campionessa, infinito cosmico, affettatrice competitiva come piccone, e dorso decorativo, insegna intrepida, e copertura rinculo reattivo, questi si potevano vincere anche giocando, sia questi che questi. bundle delle tartarughe ninja, arriva, eccolo qua, la novità, di oggi, il furgone delle tartarughe ninja, l'emote, poi, se si è scesi troppo, il bundle April O'Neil, il bundle tartarughe ninja, eccolo qua, il bundle degli strumenti, e gli strumenti in singolo, originali di evidenza, ecco ancora il bundle Caval presente, con pedulla e lama di legno nero, anno del drago, ancora presente, stile distintivo, ancora presenti, il tosco, girasole, milite teschio, le moto schiazzottata, e le moto schianto terrestre, pacchetto Galassia, che non li ho visti l'altro giorno, 2800 V-BAC, che comprende il dorso decorativo, deltaplano, e piccone acquistabili anche singolarmente, pionieri, artigliere notturno, eccolo qua, ci siamo aggressivi, ragazzi, uno stile, con il suo dorso decorativo, 24 ore, poi abbiamo il suo piccone, crash donante, in operazione divertimento, costume davvero anni 80, in due stili, capellone e un po' meno, un po' più fashion, e poi abbiamo il dorso decorativo discoteca oro, carino, discolotta al suo piccone, e poi abbiamo alba costume da 1500 V-BAC, due stili, davvero molto colorato, e l'altro un po' più stile Eclipse, con il suo dorso decorativo in due stili, c'era già stata anche lei, questi torsi me li ricordo, zaino, luna nera, e oggetti per il festival, kit del perturbatore, batteria, scaglie e bestiali che hai dare in basso del manufatto, introdotti ieri con l'aggiornamento, tracce gem, tutte le tracce di gaga, più tutte le altre che stanno girando, scorriamo giù, accendere i motori, il bundle diestro, abbiamo visto con i nostri oggetti bis, aggiunto ieri, poi abbiamo il bundle ciclone, il bundle, il propulsore turbo xeno splash, la ruota, monstrum x10, davvero particolare, e poi ci sono i pacchetti incarichi che abbiamo sempre visto, ma tornano, arrivano le serie icone, Lost Fruit, costume da 1500, V-Buck, eccola qua, col suo dorso decorativo, sacchetto, pupazzetto, però carino, bello pieno, poi colpo di frutta, il suo piccone 800, V-Buck, con i begli spiedini di frutta, e poi Lazer Beam, costume con quattro stili, praticamente, abbiamo Lazer Beam, la Relax Beam, un po' più, la sala, anche se è sempre al lavoro, Lazer Beam con il casco, e Relax Beam con il cappello, più il suo dorso decorativo, la bambolina pandizzagero, o voodoo, il suo piccone maglio fidato, un bel martellone con cui fracassare, e poi abbiamo Ninja, costume da 1500, V-Buck, con quattro stili, che cambia perlopiù la copertura del viso, lo vediamo, gli occhi, e questa invece che cosa ha? Corvo, questo è anche reattivo, e poi il suo dorso decorativo, queste due spade, quindi ecco qua, doppia katana, il suo piccone, e poi abbiamo qui un pacchetto Flex Power, sempre della serie Icone, eccolo qua, questi due stili qui, potenza fantasma, possiamo metterlo con gli occhiali, bianchi o normali, la sua emote per trasformarlo, eccolo qua, il suo dorso decorativo, elettrostemma in due stili, e poi il piccone falci elettriche, però carino, due stili, falci elettriche, potenza fantasma, e poi arriviamo ai pacchietti, pass per 25 livelli, 1850, per il pass Fortnite Festival, con tutti questi premi in palio, diciamo, da andare a vincere, giocando, facendo gli incarichi, la crew di Fortnite, poi i due bundle, di cui trovate i video, all'interno del nostro canale, vi lasciamo che alla fine, con cui andare a prendere 1500 VBAC, 1000 VBAC, pacchetto Elite Dorato, pacchetto Max Relax, e poi c'è il pacchetto Salva il Mondo, che ci permette di prendere fino a 1500 VBAC, dando gli incarichi su Salva il Mondo, e qui chiudiamo il negozio di oggi, e se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel mi piace, mettete un mi piace anche per sostenerci, e fate anche, iscrivetevi al nostro canale per sostenerci, e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere gli aggiornamenti, e mi raccomando, lasciate sempre un commento, ciao a tutti!